È il problema di questi anni, naturalmente lo si può porre in diversi modi, lo si può porre cercando di tornare indietro e quindi invocando la sovranità assoluta degli stati nazionali, il nazionalismo europeo però in questi anni poi ha dimostrato tutta la sua impotenza a governare qualsiasi dei grandi problemi del nostro tempo. La pandemia ad esempio, rispetto alla quale con tutti i limiti, senza l'Unione Europea per un paese come l'Italia sarebbe anche stato impossibile negoziare condizioni decenti sull'accesso ai vaccini, ma insomma per tornare ai problemi come cambiamenti climatici, cioè tutti i grandi problemi nel nostro tempo hanno bisogno di una risposta di una dimensione europea. Tornare indietro nell'illusione che lo Stato nazionale possa da solo fare fronte a questi problemi, credo anche qui che la pandemia ci abbia insegnato almeno questo, che non è possibile e quindi la direzione è quella di una integrazione europea più democratica e più capace di intervenire con la solidarietà di fronte ad emergenze come queste. Si è appena aperta la conferenza per il futuro dell'Europa, ci sono evidentemente una condizione, c'è stato il vertice europeo a Porto, una condizione di collaborazione anche sui temi sociali dell'intervento sulle condizioni di precariato, di disoccupazione, certamente il tema dell'immigrazione è uno dei temi sui quali si deve giocare la solidarietà e l'azione comune dell'Unione Europea, quindi non tornare indietro all'illusione della sovranità nazionale ma andare avanti verso un'Europa più democratica. Chiedo però a Luca Sommi come, perché questo è